Le novità editoriali di Libriamoci di Claudio Ciccarone Quali sono i punti in cui scavare, Flavio Nelsi? Cosa indicano, quali rivelazioni svelano i racconti ospitati tra le copertine di questo libro edito da Polidoro? Punti di non ritorno, punti di rottura, punti morti. Ho provato nei racconti della raccolta a sondare i stati d'animo delle persone anche se ci sono elementi di fantascienza, elementi che hanno accumulato i racconti a Black Mirror, qualcuno ha parlato di confini della realtà. In realtà di fantascienza ce n'è poca, è più una sorta di analisi, sondaggio delle persone. Qualsiasi lettore può ritrovarsi in questa raccolta di racconti. Grazie a tutti!